Rieccoci, Primo Siterpares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, ospite come avete visto, abbiamo Don Dante Carraro, direttore dei Medici con l'Africa, QAM. E abbiamo già parlato da prima parte, siamo andati a conoscere un attimino Don Dante, come è nato e perché come medico è andato a fare questo lavoro importantissimo in Africa e nei paesi dove ce ne è bisogno. Andiamo invece a vedere cos'è il QAM, cosa fa il QAM in questo servizio. Medici con l'Africa, QAM, è la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Nata nel 1950, oggi è a fianco di medici e infermieri locali in ospedali, distretti, scuole e università di Angola, Etiopia, Mozambico, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania e Uganda. Può contare su oltre 1600 persone che operano con l'obiettivo di portare cure e servizi anche a chi vive nelle località più povere del mondo. Realizza progetti a lungo termine in un'ottica di sviluppo e muove dal principio che la salute è un diritto umano universale, per questo l'accesso ai servizi sanitari non può essere un privilegio. Non solo però, si batte ogni giorno per promuovere un atteggiamento positivo e solidale nei confronti dell'Africa per garantire un futuro migliore al continente. Per il periodo 2017-2021 la grande sfida è garantire l'assistenza medica a mamme e bambini nei primi mille giorni, dall'inizio della gravidanza fino al secondo anno di vita, con un'attenzione particolare al tema della nutrizione e al diritto al parto assistito. Forte è anche l'impegno in Sud Sudan, uno dei paesi più poveri del pianeta, e alle prese con una profonda emergenza fame che oggi può dirsi formalmente terminata. Lì il QOM lavora in 5 ospedali, 164 strutture sanitarie e serve una popolazione di quasi 1 milione e 400 mila persone. Infine la Sierra Leone, dove Medici con l'Africa è in prima linea in un grande progetto finanziato dalla Banca Mondiale per mettere in piedi una sorta di 118, ossia un sistema di trasporto a livello nazionale per le emergenze ostetriche e chirurgiche. Obiettivo mettere a disposizione 200 ambulanze e 1000 operatori per un servizio che ambisce a coprire tutte le 24 ore giornaliere. Si può dire, Don Dante, voi siete stati i primi a dire, le faccio questo ragionamento nel rapporto oggi dell'immigrazione, noi andiamo a curarli lì, veniamo noi da voi, non venite a voi con le barche rischiando la morte, quello che sta succedendo. E quindi siete un'organizzazione non governativa che voi avete detto, lei ha detto andiamo noi e organizziamo noi per andare lì. E questo è un dato di fatto molto importante. Sì, a me piace pensare proprio come questa intuizione sia nata tanti anni fa, nel 1950 quando avevamo iniziato a fare i primi passi e non è che ce la siamo inventata, è nata proprio, ma continua a succedere oggi perché quello che io recepisco ogni santo giorno quando sono in Africa, che sono proprio gli africani che ci chiedono aiutateci, Don Dante, aiutaci a non scappare, aiutaci a costruire il nostro futuro. Ecco come che quel aiutiamoli a casa loro si trasforma quasi, no? E prende anche una dimensione che dice le aspirazioni profonde di questo popolo, in particolare mi riferisco a quello sud sahariano, perché non c'è dubbio che il Nord Africa non è, è un'Africa speciale, il Sud Africa è un paese sviluppato, eccetera, ma tutto quello che c'è in mezzo, che è l'Africa sud sahariana... Anche perché il Sud Africa è il primo trappianto del cuore... Sì, appunto, appunto, cioè è un super paese. Ecco, quello che c'è in mezzo, quello che accennavo prima con numeri sanitari, è dentro lì, sono proprio loro che ci chiedono questo, e noi è lì che vogliamo fare. In questo senso racconto una storia che mi pare una bellissima storia. Sul Sudan tanti problemi, tante fatiche, eccetera, una scuola per ostetriche, dunque il Sud Sudan non ha, come prima accennavo, un ginecologo in tutto il paese, non c'è. E c'è un'ostetrica per 20.000 mamme che devono partorire, un'ostetrica locale, quindi un bisogno assoluto di risorse locali. C'è da augurarci che non partoriscano tutti allo stesso momento, cerco di fare una battuta, però può succedere. Assolutamente, purtroppo è per quello che c'è una mortalità da parto elevata. Allora dicevo, in questo contesto una scuola per ostetriche che abbiamo realizzato all'ospedale di lui, uno dei sei ospedali dove stiamo lavorando, che dopo tre anni, quindi si investe su queste ragazze e ragazze che diventano, 20 di questi, diventano a giugno dell'anno scorso ostetriche, si laureano, c'era il vescovo, c'era io, c'era il ministro della salute, una festa incredibile di questi 20 ragazzi neri come il carbone, bellissimi, che diventano ostetriche. E a ottobre, dopo sei mesi, io vado in uno degli ospedali dove stiamo lavorando, entro in questo ospedale in maternità e mi viene incontro questa ragazza che mi abbraccia, mi dice welcome, benvenuto padre Dante, e dice io sono a Mina, sono una di quelli 20 ostetriche che si sono lavorate a giugno, a dire che queste 20 che si sono lavorate adesso stanno servendo il loro paese e lo stanno facendo crescere e mi dice I am very proud, sono davvero orgogliosa di fare la mia parte per il mio paese. Sta ragazza qua non pensa più all'Europa, pensa e diventa orgogliosa di fare la propria parte per il suo paese. È bellissimo tutto questo. Bellissima, guarda, anche per me è stata, perché è questa la strada che dobbiamo percorrere. Già come la racconta è una cosa emozionante, mi emoziono anche io nel sentirla, quindi immagino lei che l'ha fatto. Senta, nei dati, prima abbiamo detto tutte le persone, e poi siete presenti in Angola, in Etiopia, in Mozambico, in Sierra Leone, come aveva detto, in Sudan, in Tanzania, in Uganda, con 1628 operatori, di cui 203 professionisti qualificati africani. 218 qualificati europei, 184 ausiliari, 1.023 risorse umane in gestione straordinaria in Sudan. Poi avete 72 progetti di cooperazione principale e un centinaio di micro realizzazioni di supporto, con i quali appoggiate 19 ospedali, 45 distretti per attività di sanità pubblica, assistenza materno-infantina, lotta all'IDS, tubercolosi, malaria, eccetera, eccetera, tre scuole di infermieri, una università, l'UCM di Beira, in Mozambico. Senta, mi dica, ma come nasce tutta questa storia? Cioè, lei sa che, per esempio, in Sudan, su Sudan, ci sono delle esigenze, va lì, va a verificare, visto che ha detto che siete organizzati. Mi racconti, altrimenti, lei va su un territorio dove non c'è nessuno, ci sono solo 20.000 bambini che nascono. Apro una chiusura parentesi, non è che lì i bambini nascono. Qui nel nostro mondo fanno fatica a nasce perché fanno, mi scusi il termine banale, si fa fatica quasi a mantenerli. Lì proprio non c'è altro da fare, mi viene il dubbio che è l'opposto di quello che succede qui. Non so se questa è una delle motivazioni. Però come fa lei, voi, ad andare e trovare un territorio dove iniziare a seminare per far guarire la gente? Succede così che, per parlare della Sierra Leone, un altro dei paesi, abbiamo iniziato nel 2010, è un paese relativamente giovane per noi. Arriviamo lì chiamati. Ecco appunto. E chi vi chiama? In questo caso è stato un vescovo che ci dice venite ad aiutare questo paese. Vescovo di dove? Vescovo della Sierra Leone. Che ci ha conosciuto perché dopo ci conosce. Mi scusi se la domanda, se la interrompo, perché non va a chiederlo anche al Sudafrica dove è un paese rinomato, moderno e chiedere aiuto anche lì e viene qui in Italia a chiedere aiuto? Perché sa che c'è questo QAM oppure perché? Perché in questo caso il QAM sanno che è un organismo fra virgolette cattolico, sanno quello che facciamo in altri paesi africani. Capito. E quindi in Africa è conosciuto un po' quello che facciamo. Certo. E ti scrive, noi quando riceviamo una lettera da un vescovo comunque andiamo a capire il paese, vedere se effettivamente c'è questo bisogno, capiamo che c'è un bisogno e andiamo giù, valutiamo il paese, quindi andiamo in giro con la macchina materialmente, parliamo con i vescovi, parliamo con le autorità governative, abbiamo incontrato il ministro, vogliamo capire, andiamo a vedere. Se per lei è prima persona. Beh in questo caso sì, insieme, non solo io perché dopo anch'io vado con i miei. E lì vai a capire, questa è proprio la strada che portava in questo distretto di... Se si può chiamare strada. Sì, insomma ovvio che è così, a Pugeun proprio, stavamo andando, ponti, fiumi, lì quando piove tanto va tutto sotto acqua e quindi devi muoverti con queste macchine qua, che sono macchine che per fortuna ci sono, sono tutte Toyota che si muovono un po' dappertutto, arrivi e per esempio siamo arrivati a Pugeun dove, ripeto, abbiamo visto prima le immagini e lì hai una popolazione di 350 mila abitanti, più grande di Pado, e vedi che c'è questo ospedaletto che ha un medico. Stop. Medico del posto. Locale, nero, medico locale. E lui mi guarda e dice aiutateci, aiutateci, ma come aiutateci, ma non è possibile da solo. Sì, sono qua da solo. Un ospedaletto che ha 80 posti letto, solite cose, una piccola maternità, una piccola pediatria, un reparto per la medicina, un reparto per la chirurgia. E opera sempre questo medico? È un medico unico medico con una decina di infermieri e cerca di rispondere ai bisogni sanitari della popolazione di 300 mila abitanti, ripeto, più grande di Pado. Quando noi vediamo una situazione di questo tipo, torniamo a casa, ci ragioniamo, possiamo noi fare così? Come facciamo? Ovvio che non puoi fare un intervento di sta natura e devi anche cercare i soldi per fare tutta questa cosa, perché bisogna anche avere le risorse economiche per farla? Allora ti dai da fare, provi a cercare, chiedi chi, ci aiutate su questo, in parte privati. Per esempio c'è stato, in questa cosa specifica qua, una dita che non nomino perché non vogliono essere nominati, di Verone. Quando hanno saputo che noi stavamo pensando alla Sierra Leone, ci chiamano e dicono, è mancato, nostro papà l'anno scorso eccetera, noi stiamo bene, vi diamo una cifra, ci ha dato una cifra importante, per riabilitare quell'ospedale là. Madonna, grazie, dico, guarda, ci hanno dato i soldi, abbiamo fatto il lavoro, gli abbiamo presentato quello che abbiamo fatto, felicissimi e adesso ci stanno aiutando da un'altra parte, per dire anche come lavoriamo. E quello ci ha dato una spinta per iniziare. ma l'approccio qua è abbastanza simile, sempre 4, 5, 6 persone che mandiamo lì, si sta là e si comincia a lavorare con loro. La roba meravigliosa è stata che in questo lavorare con loro i risultati, se tu lavori bene, sono eccezionali. Noi abbiamo visto crescere il numero delle mamme che vengono in ospedale, abbiamo visto abbassare la mortalità, perché quando cominci ad aiutare davvero, vedi che i bambini che muoiono sono meno, che le donne che muoiono sono meno, ed è diventato entusiasmante per loro, locali, colleghi locali e per noi. In questo contesto, 4 anni fa, scoppia l'ebola. Sì, stavamo proprio arrivando, sembra che l'abbiamo anticipato. Scoppia l'ebola, che poi l'avete praticamente... Ci racconti? Mi racconti un attimino l'ebola, perché è stato... E l'ebola, noi l'abbiamo... Quello è stato un distretto sanitario, che è il distretto sanitario, la regione, che è uscita dall'ebola... Mi sembra 2014-2015. 2014-2015, ho detto 4 anni, 3 anni, ero incerto, 3-4, è quello il periodo, no? Ed è stato il distretto sanitario che è uscito per prima dall'ebola di tutto il paese. Quindi vuol dire, è stato il distretto che ha affrontato l'ebola con più forza, tanto da uscirne per primo rispetto a tutto il resto del paese. La gente di Pugeun, che andava via con la motoretta, quando finalmente il Ministero della Sanità locale ha dichiarato ebola free, libera da ebola, il distretto, andava via con la V di Vittoria, per dire... Beh, ma è stato un successo. È stato un successo, frutto di che cosa? Frutto di questo con, di questa unione che avevamo fatto noi con lo staff locale. Insieme siamo riusciti ad affrontare questa sfida, è stata una sfida difficilissima e quando c'è stata la paura, la paura forte perché io sono stato là quando c'era l'ebola, cioè vai a letto di sera e non dormi o fai fatica a prendere sonno perché hai paura che la gocciolina della saliva dell'altro sia entrata nell'occhio perché eri in sala parto e c'è il sangue, insomma le paure ci sono. Quando abbiamo avuto paura e la tentazione di andare via era fortissima, nostra e anche dei colleghi locali ci siamo seduti col direttore dell'ospedale, questo dottor Boom e gli ho detto dottor Boom cosa facciamo? Lui mi guarda e mi dice, Don Dante, io, noi rimaniamo perché voi siete qua e rimanete. Io l'ho guardato e gli ho detto dottor Boom e noi rimaniamo perché tu e voi rimanete. Ecco dove quel con diventa un esempio potente di ciò che si può fare quando si lavora insieme, quando anche i medici locali diventano parte del tuo modo di essere e di lavorare. ed è stato una, davvero una gioia profondissima perché abbiamo avuto pochissimi morti, abbiamo avuto, l'abbiamo sconfitto perché, tanto per dire esempi molto concreti, perché quando scoppiava un caso avevamo bisogno di essere, che quell'area lì fosse monitorata, com'è che facciamo noi. Scusi, ma quanti medici lavoravate per ucciderci? Solito team? Cinque. Cinque medici, è un medico locale, anzi di cinque, tre medici, è uno di sanità pubblica, è un infermiere. E siete riuscite voi a sconfiggere? No, ma perché? Perché quell'unione fa la forza incredibile, cioè il con l'Africa non essere il per, io non vengo qua a salvare te, io non vengo a dirti quanto bravo sono io, sono qua per te. No, no, insieme. Cosa è capitato? Abbiamo detto, com'è che affrontiamo questa roba? E insieme, ragionando con i colleghi locali, abbiamo detto, noi quando scoppia un caso di ebola dobbiamo sapere cosa capita in quella zona là, perché altrimenti quel virus si diffonde e diventa una bomba atomica, quindi dobbiamo isolarlo e sapere i contatti che questa persona infetta ha avuto con i familiari, con i vicini, dove è andato, dove si è andato, com'è che facciamo noi, che siamo così pochi? Ci siamo inventati quelli che vengono chiamati i contact tracers, cioè i tracciatori dei contatti, concretamente. Abbiamo chiamato i giovani che erano per strada di fatto della zona, li abbiamo chiamati, abbiamo fatto un corso di formazione di una settimana. Due, due, quattro sono andato per dieci. Assolutamente. Vi nominiamo sul campo quelli che vanno a tracciare i contatti. Cosa abbiamo fatto? Una settimana di formazione. Dopo una settimana gli abbiamo dato tre robe. Una motoretta, 125 giapponese che costa anche poco, che possono andare in giro perché dopo è tutta foresta. Ma quindi le acquistavate lì? Sì, sì, l'abbiamo acquistata, ma 20 motorette, 2.000 euro, 3.000, costano 150, 200 dollari, tutta roba che aveva avanti. Taroccata via me. Insomma, ecco, diciamolo così, che però funzionava. Quindi in Italia vanno in galera, tutti da l'estero, tutti da l'estero. Insomma, l'abbiamo fatto. Con questa motoretta, un quaderno e una penna. E loro andavano lì, mandavamo questi 20, 25, in giro, lì dove era scoppiata l'ebola, andavano nelle capanne, tu l'hai incontrato questo. E segnavano il nome e il cognome. Gli avevamo istruiti. Nome e cognome. Fermo lì, non muoverti. Avete fatto un cessimento, insomma? Abbiamo fatto una sorta di cessimento e bloccato un'area di isolamento in maniera tale che questa gente fosse bloccata lì, che non si spostasse in giro a diffondere l'epidemia e a sostenerli con qualche sacco di riso, sacco di farina, in modo che avesse da mangiare. Superati i 20 giorni che è il periodo critico, gli si dava la via libera e noi in questa maniera abbiamo contenuto la diffusione dell'epidemia che ci ha consentito di far sì che il primo distretto a essere dichiarato Ebola-free è stato proprio questo. Senti, prima di, mi viene da chiederle, perché ho molte cose? Perché qui avete fatto un 118 per tutte le salle 1, abbiamo detto poi la giornata, avete fatto una giornata, il 23 febbraio di quest'anno, giornata di digiuno e preghiera per il Sudan e il Congo, l'uguaglianza di genere nel ruolo delle parti di SIP e quindi a Roma con i medici dell'Africa, alcuni avete trovato sedati e organizzati dal Ministero degli Affari, insomma. Senta, dopo tutto questo ovviamente vi ho visto con il Presidente della Repubblica e con il Vaticano il vostro rapporto con me. Ma molto buono, molto buono, devo dire che per esempio questa iniziativa del digiuno per il Sud Sudan e la Repubblica Democratica del Congo l'abbiamo sollecitata. Ma hai incontrato lei il Papa personalmente? Sì, quando sono stati a Roma. Sì, ma personalmente dico, seduti come tra noi due, insomma. Sì, sì, ci siamo incontrati anche appunto prima dell'incontro, dell'evento. Adesso gli ho chiesto qualcosa? Ma lui ovviamente noi sa che noi lavoriamo... Non il Papa, non il Papa a lei, lei al Papa. Sì, io gli ho chiesto di sollevare il problema dell'Africa, di sollevare il problema dell'Africa, perché l'Africa sta soffrendo tanto dal punto di vista sanitario e delle scuole, scuole e sanità. Io credo che lui ha indetto durante il periodo di Quaresima, che il Papa ha indetto. È frutto un po' delle sollecitazioni, io ho scritto anche una lettera, insomma gli ho scritto proprio della situazione. E lui ne sta parlando tanto del Sud Sudan, del Congo, della Sierra Leone, dei paesi che stanno soffrendo. Quindi lo sentiamo molto vicino. E la nostra adesione al digiuno e aver fatto nostro questa iniziativa del Papa è proprio per sostenere questo continente, che è il continente di un'Africa che ha voglia di crescere, che è piena di energie, ma che sta facendo tanta fatica, perché a volte ci sono condizioni drammatiche. Da tutti i punti di vista, adesso in Sudano si trova il cibo, i nostri vanno, sono là, è tornato da poco Vincenzo, è tornato Luca. In sei mesi, otto mesi, anche loro, nonostante, perdono otto, dieci chili di peso. Nonostante, dove c'è, dove c'è, in questi territori c'è la fame, dove c'è la povertà assoluta, se capisci, ma dove invece c'è la guerra, la Siria, tanto per citarne una, dove c'è lì, dove ci sono degli africani davvero trattati, non come besti, ma peggio ancora. E lì, anche lì c'è bisogno del medico, c'è bisogno, ci sarebbe bisogno. Lì, in quei territori lì, andate oppure c'è ancora il vieto per andarci, perché ovviamente rischiate di vostro. No, la scelta che noi abbiamo fatto è stata proprio quella di concentrarci in Africa, perché lì subentra un altro argomento, che fare il medico e l'operatore sanitario in contesti così difficili come è l'Africa, ci vuole anche una competenza e una preparazione e una capacità specialistica, speciale. Noi facciamo, a tutti i medici che partono, noi facciamo un corso di formazione, perché diamo per scontato che sappia fare il pediatra, ma fare il pediatra a Padoa, in una clinica con una neonatologia che ha monitor, che ha eccetera, si fa il pediatra in una certa maniera, ma farlo quando non hai nulla, quando tu devi ventilare un bambino con questo strumento che si chiama Ambu e lo devi fare manualmente perché non c'è l'energia, perché la sera alle 7 viene buio e devi arrangiarti con una pila sul caschetto, è un modo di fare medicina che richiede una specializzazione. La Siria per esempio è un contesto estremamente diverso rispetto all'Africa, quindi siamo anche noi in questo caso che abbiamo fatto la scelta di concentrarci in questo continente, che è dal punto di vista del continente più povero. E in Siria c'è bisogno, noi siamo coscienti che non possiamo fare tutto ed è in Africa che ci stiamo concentrando. Detto questo non c'è dubbio che anche in paesi dove noi lavoriamo, noi abbiamo lavorato durante la guerra civile in Uganda, l'Uganda è la guerra civile in Mozambico, l'Angola, attualmente su Sudan ci sono armi che girano. L'ultima volta che sono stato su Sudan, per dire anche il livello di situazioni e di povertà che ci sono. Io ero in Toyota, eravamo in quattro in auto, stavamo andando in questa pista di terra rossa che si fanno chilometri, chilometri, ore e ore di auto, a un certo punto vedi questo gruppo di ragazzotti col fucile che ti punta, no fucile, calasnico, perché ormai sono quelli. Ok, rallentiamo, noi ormai siamo fra virgolette abituati, che sono abbastanza frequenti, però ci si avvicina, ci rallenta, ci ferma. Loro ti fanno così con la mano, nel senso che vogliono, noi sappiamo due cose, o cibo, varina, riso, non avevamo niente in macchina, o soldi, qualche soldo. E il nostro capoprogetto dice mi arrangio io, parla un po', perché ho preso a conoscere usi e costumi, e gli dà, vedo che tira fuori il portafoglio, gli dà queste banconote, insomma gliele dà in cosa, loro quasi ci ringraziano, bassano le armi e vanno via. Andiamo avanti. Ma questi sono civili? Ragazzi civili, ma che hanno fucile? Sì, no, che hanno fucile, ma non un'organizzazione militare. No, 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 proprio ragazzi che, vedi, sono disperati. Ma in questi paesi c'è uno stato. Finisco, finisco. E andiamo avanti, e dopo 150, 200 metri, 300, gli dico, scusa solo per curiosità, ma quanti soldi gli abbiamo dato? Andate, gli abbiamo dato 200 pound sud-sudanesi. E che cosa vuol dire in termini di euro? Due euro? Un euro. 100 pound sono 50, 200 pound, un euro, e sti ragazzi sono andati. Vuol dire che il livello di povertà è assoluto. Se con un euro sta gente riesce a trovare il modo di sopravvivere, vuol dire che il livello di povertà mi ha colpito, mi ha impressionato questa roba. Ecco, per dire come la povertà, con l'insicurezza, è un circuito che... perché sai, un papà, una mamma, che non ha da dare da mangiare, tira fuori di tutto. Ma lì non c'è coltivazione, non c'è la possibilità. Il territorio non dà cibo, è tutto, non so, non c'è, non sono fiumi dove pescare pesce. Adesso le faccio una domanda da ignorante perché non sono mai stato, quindi non conosco bene il territorio. Certo, certo. Il Sud Sudan è diventato indipendente nel 2011, nel 2014 stava andando benino. Che cosa capita? Capita che il prezzo del petrolio da 150 dollari al barile si è abbassato a 50. Quindi io sul Sudan che ho del petrolio e lo vendo, prima guadagnavo, costa mettiamo 40 dollari estrarre un barile, 40 dollari, prima guadagnavo 110 dollari e quindi i primi tre anni è andata abbastanza bene, riuscivano a pagare i salari, il governo, il governo perché c'è uno Stato, c'è un governo, eccetera. Quando il prezzo del petrolio è sceso a 40, tu vendi un barile, ti costa 40, porti a casa 40 e il guadagno è quasi scomparso. E questo ha alimentato la povertà, la gente ha tirato fuori, ha cominciato a tirare fuori le armi, si sono anche accentuate le tensioni etniche tra i dinka da una parte e i nuer dall'altra e adesso è un paese in guerra. Quando paese in guerra, i camion con i viveri non si spostano, la gente non coltiva la terra perché dice io coltivo, dopo passa i soldati, passano i cosi, eccetera, e quindi si è aggravata la situazione complessiva del paese. L'anno scorso hanno avuto una sfortuna anche micidiale perché lì passa il Nilo, il Nilo sappiamo che esonda e nutre la terra, ha piovuto pochissimo, c'è stata una siccità importante e questo ha aggravato una carestia. L'anno scorso le Nazioni Unite hanno dichiarato lo stato di fame. Quando le Nazioni dichiarano lo stato di fame vuol dire che prima le capre, poi le vacche, poi i bambini, poi le mamme, gli anziani e infine gli adulti cominciano a morire. Quando succede questo ovvio che devi fare di tutto per far sì. E la gente quando capita questo in parte tira fuori le armi e in parte scappa. Ecco perché anche dal Sud Sudan c'è un milione di profughi che sono andati in Uganda e un altro mezzo milione in Etiopia. Il nostro intervenire lì è anche evitare questo, che sta gente abbandoni a terra. E' questo che la gente ci chiede, aiutateci a non scappare, dateci una mano, adesso stiamo facendo fatica. Per dire la complessità delle situazioni è quello che tentiamo di fare per dare dignità e mi viene da dire futuro anche a questa gente. Tutte e due le cose sono giuste, dignità e futuro. Andiamo in un attimo di pubblicità, poi abbiamo la parte conclusiva. Mi viene da pensare, lei prima ha detto, lì il petrolio al barile è calato, qui in Italia cresce chissà per quale motivo, gli interessi sono davvero all'opposto, come sempre. Vabbè, insomma, è così, è la vita e credo che difficilmente potrà migliorare, almeno io me lo auguro delle volte, ma man mano che passa vedo che diventa sempre più difficilmente con noi tra poco.